Quasi subito il 2-1, doppio cambio per Colombo che manda in campo Bussagli e Viteritti e proprio il neoentrato numero 21 a concludere a rete dopo neanche 4 minuti di gioco dopo una bella azione di Grandolfo, sfera deviata in corner Dadini, sui sviluppi del corner però Pala che arriva a Ghiebre, bravo a scodellare al centro un pallone invitante che Bizzotto riesce a colpire di testa